Ciao a tutti, bentornati in questa nuova puntata di Gossip. Mi avete scritto in tantissimi su Instagram, in privato, ovunque, anche mail mi avete mandato perché volete sapere la mia opinione per quanto riguarda Pamela Prati. E io vi accontento. No, vi dico la verità, ho voluto aspettare l'otto di questo mese perché volevo togliermi l'ultimo dubbio che avevo. Volevo vedere se realmente questo matrimonio si faceva o no. Ma, come tutti sanno, ormai questo matrimonio non è avvenuto. Per cui ho visto anche la puntata di Verissimo, l'ho vista registrata perché ero a lavoro, per cui mi sono fatta un'idea mia. Avevo guardato anche la puntata di Dominica In, quando ero andata ospite da Mara Venier, quindi io la seguo proprio dall'inizio, da quando lei ha detto che si sposava, che aveva preso in affido due figli. Per cui io adesso mi posso esprimere. Io, Pamela, allora, non le ho mai creduto. Io sempre vado a sensazione. Quando le persone non mi arrivano, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Pamela Prati a me non mi è mai piaciuta, ma neanche, forse, forse prima del grande fratello avevo un bel ricordo di lei quando ballava al bagaglino, ballava comunque in varie trasmissioni. Ma dal grande fratello in poi diciamo che lei mi è caduta. Quindi, secondo me, lei, siccome ha fatto un po' di scalpore, diciamo, si è parlato di lei un po' del suo comportamento negativo al grande fratello, da grandissima viziata, ma poi è sparita dalle scene. Per cui, secondo me, loro si sono, lei e la sua agenzia si sono inventate questo matrimonio, non pensando però di arrivare a questo punto, di non ritorno. Perché non c'è più un ritorno in questa storia. Lei, non sposandosi, ha fatto la vera figura di cacca, per quanto riguarda il mio punto di vista, sempre, ragazze. Poi, se volete, esprimetevelo voi, il vostro punto di vista, giù nei commenti. A me fa piacere se qualcuno la pensa diversamente da me. Questo è un canale anche per dar modo agli altri di confrontarsi con quello che dico, quindi io non ho nessun problema. Per quanto riguarda me, Pamela Prati è stata bugiarda, falsa, è scogitato ogni minimo dettaglio per arrivare ad avere copertine e andare in tutte le trasmissioni sia Rai che Mediaset. E non è creduta da nessuno, non è che è un'opinione solo mia, non la crede nessuno, non le crede nessuno. Perché? Perché le hanno gestita male la situazione. Loro, secondo me, o dovevano inscenare questo finto matrimonio, quindi prendersi un uomo, un tal dei tali, che si fingeva Marco Cartagirone, e in scenare questo matrimonio, gli davano due o tre mila euro, si prendevano anche un barbone e ne uscivano veramente bene. Non facevano più parlare male di loro e tutti quelli che durante queste settimane hanno parlato male di questa storia si sarebbero ricreduti. Però loro cosa hanno fatto? Lei non si è sposata, è andata a ospite da Silvia Toffanin e ha spiegato che lei non si è sposata perché? Perché era troppo triste e amaraggiata da tutto questo polverone che si aggira intorno alla sua storia, scusate. Lei è molto dimagrita, ma secondo me è dimagrita non perché è dispiaciuta di questa cosa, dimagrita perché è stata sgamata e quindi non sapeva più come uscirne, solo per questo secondo me l'abbiamo vista così magra. Allora, io se so di dire la verità, se so che sono nel giusto, non vedo l'ora che sia il giorno del mio matrimonio per mettere a tacere tutte le male lingue, giusto? Quindi lei doveva sposarsi, far vedere a tutti il Marco Cartagirone, presentarlo e andare a ospitare a Silvia Toffanin con lui. Ma loro non l'hanno fatto perché? Perché intanto sono poco furbe e anche perché poi questo Marco Cartagirone non esiste. Quindi loro si sono sputtanate alla grande dall'8 di maggio in poi, oggi è il 13, si sono sputtanate alla grande. Adesso io penso che stasera e mercoledì ne parleranno a Barbara D'Urso, a Nonela D'Urso, ma dopodiché secondo me non se ne parlerà più. Perché lei da Silvia Toffanin ha detto che adesso le nozze sono solo rinviate, che non diranno quando si sposeranno, che faranno tutto in segreto. Ma le persone non sono stupide, per cui loro già sanno che questo matrimonio non avverrà, non succederà mai, quindi non ne parleranno neanche più. Perché sia Mediaset che la Rai, tutte le trasmissioni, tutte le presentatrici e comunque amiche anche di Pamela Prati, sono deluse da lei. Cioè io ho visto Silvia veramente in seria difficoltà nell'intervista. Perché a parte che Silvia io la amo perché è una persona che è genuina e le si legge in faccia quando non crede a una persona. Lei è come me, è molto espressiva. Cioè io se dico una bugia mi sgammate subito e se una persona mi racconta una balla io lo sgamo subito. E lei lo vede dai movimenti facciali miei che io non le credo, io non riesco a fingere. E Silvia è così. E Silvia ha detto guarda Pamela, con tutta la buona volontà io non ti credo. Anche dopo che lei le ha mostrato le fotografie dal cellulare. Non le ha creduto. Anche la scena che ha fatto che è andata via dallo studio, ha lasciato la mezz'ora. Silvia Toffanin col pubblico ad aspettare lei che andasse a prendere il cellulare per fargli vedere le foto. Quando lei comunque se ne voleva andare via. Lei è tornata dentro perché è stata convinta da quelli di Mediaset a ritornare. Perché lei non sarebbe più tornata. Quindi cosa vuol dire? Se tu esci dallo studio per prendermi il cellulare con le foto del tuo uomo. Non prendi e te ne vai. Allora lì mi fai capire per l'ennesima volta che stai prendendo in giro tutta Italia. Capisci? Quindi ragazze, questo è il mio punto di vista. Io non le credo. Non credo che ci sia questo matrimonio. Non credo che Marco Cartagio non esista. Non credo che sia un milionario. Non credo che abbiano due figli. Anche quello secondo me è una presa in giro. Cioè forse la cosa che mi ha dato più fastidio è mettere in mezzo questo discorso dell'affido. Perché ci sono tantissime persone, tantissime coppie al mondo che non riescono ad avere figli. E che hanno difficoltà anche ad adottare o ad avere anche in affido, solo in affido dei bambini. E giocare sopra questi discorsi qua, molto pesanti, molto seri, a me ha dato sui nervi. Questa forse in tutta la storia è stata la cosa che mi ha dato più fastidio di loro. Giocare con queste cose, con queste problematiche, no, non ci sto. Cioè secondo me loro dovevano uscirne fuori. Ve l'ho detto in due modi. O fare un finto matrimonio e non far più parlare di loro. Oppure dire tutta la verità. Andare da Silvia Tofanin o andare da Barbara D'Urso a dire ragazzi mi dispiace, vi chiedo scusa. E ho 60 anni, ho problemi economici, so di valere. Sono una ballerina, una showgirl bravissima. E ho voluto inventare questa storia per far parlare di nuovo di me, del mio personaggio. Però mi sono fatta prendere la mano e la storia è degenerata. Qui forse sarebbe uscita sempre male, ma almeno con le scuse, diciamo. Con il fatto che sì, vabbè, ha sbagliato, ma ha chiesto scusa. Quindi magari sarebbe stata più capibile come... Se l'abbia stato più capibile come atteggiamento. Ma così no, lei ne uscirà malissimo. Secondo me lei ha chiuso con tutta la televisione italiana. Non ci sarà una rete che lavorerà a ospite. Perché tra di loro comunque sono... Cioè ci sono amicizie che durano da 30-40 anni. Quindi lei, oltre alla trasmissione, è andata a prendere in giro le sue amiche. Poi ragazzi, io non lo so cosa succederà in questi giorni. Io mi sono espressa adesso perché ormai è il 13, l'8 è già passato, quindi non si sono sposate. Per cui mi sono sentita di dire la mia, perché veramente me l'avete chiesti in tanti, in tanti, in tanti. Però appunto, vi ripeto per l'ennesima volta, io aspetto prima di esprimermi. Perché se io avessi fatto questo video, ah che bello, Pamela Prati si sposerà, io le credo, io le credo. Avrei dovuto fare un altro video per dire scusatemi, ho detto una balla, lei non si è sposata, non era sincera. Quindi ho voluto aspettare un po'. Io vi ringrazio di essere stati tantissimi a scrivermi. Vi ringrazio anche perché stiamo crescendo qua, ma soprattutto su Instagram, veramente grazie. E vi invito, chi non l'avesse fatto ancora, a iscrivervi al mio canale, di lasciarmi un like e presto arriveranno altri cosi. Sto aspettando un attimo questa sera per vedere delle retroscena, delle cose ancora che non mi convincono. E poi un altro video presto arriverà qui sul canale. Un bacio a tutti ragazzi, ciao!